Il mercato delle opportunità cambia gestione e incontra il mondo delle misericordie. Il nuovo mercato, dove le persone potranno acquistare frutta e ortaggi a prezzi calmerati, così da evitare eventuali sprechi di prodotti invenduti, sarà gestito dal coordinamento Misericordie Aria Fiorentina presso il mercato ortofrutticolo di Novoli. Il mercato delle opportunità è nato nel 2006 per volontà della Mercafi, di alcuni imprenditori agroalimentari e del Comune di Firenze. L'iniziativa ha avuto successo e per questo si è pensato di coinvolgere strutture caritatevoli, come le Misericordie, per allargare la possibilità di fruizione del mercato a tutti coloro che sono in difficoltà. Dà l'opportunità ai cittadini di entrare dentro l'area di lavoro di Mercafi per poter acquistare prodotti di ottima qualità che sarebbero però invenduti all'ingrosso. E quindi da mezzogiorno alle 19 del martedì e del venerdì Mercafi apre le proprie porte da questa grande possibilità di acquisto. E le Misericordie per continuare ad essere sempre e comunque vicine alle persone hanno intrapreso questa attività, sperando di poter fare sempre più del bene. Questa è una risposta importante tra l'altro a un'azione che Mercafi sta portando avanti da tanto tempo. Questo mercato di opportunità è un'ulteriore risposta a un tassello fondamentale in quella che è la filiera degli aiuti per i nostri cittadini.